In questa puntata Senza Bavaglio vuole parlare di sanità, considerando le mutilazioni, le fregature, passatemi l'espressione forte, che il piano di riordino sanitario, quello regionale, ha inferto alla città di Taranto. Ma si sa, il governatore Emiliano ha deciso proprio di abbandonare completamente Taranto, di lasciarla al suo destino e prende provvedimenti, compie atti amministrativi tali che la città di Taranto viene sempre più marginalizzata, negletta, dimenticata, affossata, umiliata e schiaffeggiata. Voi mi direte, ma forse questa è una esagerazione? No, io lo ribadisco, ho un bel rapporto umano con Michele Emiliano, ci sentiamo al telefono, ci parliamo, ci diamo del tu, sulla disponibilità della persona nulla da dire, però l'ho anche votato. Però quando io vedo certe umiliazioni, e ora verremo al dunque, sinceramente non posso esimermi dal muovergli critiche. Parliamo di sanità e parliamo dei posti letto relativi alle malattie endocrine che sono stati tagliati relativamente alla città di Taranto. Da 10 posti letto per le malattie endocrine, passiamo a 2 posti letto, allocati presso l'ospedale Nord, il Moscati. Da 10 a 2. Taranto ha una percentuale di posti letto in Puglia pari all'1,8%. E guardate come, ecco perché volutamente ho detto Taranto è stata schiaffeggiata, perché mentre Lecce ha 10 posti letto, Brindisi 8, Bari 55, Foggia 28, Labatt 8, come detto Taranto ne ha 2. Da 10 a 2. Taranto, città superinquinata, parliamo di malattie endocrine. Taranto, basta vedere i valori in città del TSH, FT3, FT4 e TSH, che sono dei valori di analisi del sangue relativi alle problematiche della tiroide, e quindi rientrano nelle malattie endocrine. Taranto, invece di ricevere un potenziamento dei posti letto, Taranto subisce una decurtazione. Lo ripeto, perché come si suol dire, ripetita Juvent, da 10 posti letto a 2. Cioè a Taranto vediamo le patologie legate alla tiroide che schizzano alle stelle per le problematiche ambientali, e Taranto invece si decide di ridurli. Pensate, con questi ricoveri, con questi posti letto, nel Santissima Annunziata, dove era prima allocata la struttura, e c'erano 10 posti letto, per oltre 20 anni si affrontavano le varie problematiche endocrinologiche, quindi le patologie legate ai diabetici, ai piedi diabetici infetti, all'obesità, alla diagnosi e al follow up dei tumori relativi alla tiroide, come ho detto, le patologie, quindi il discorso della nutrizione artificiale, le patologie endocrine legate alla ipofisi e dal surrine. Bene o male, per oltre 20 anni, bene o male nel senso che pur nelle ristrettezze, ovviamente, dei posti letto, i medici, il personale medico, si dava da fare e affrontava queste problematiche, queste patologie, con grande sacrificio, con grande professionalità e con grande spirito di abnegazione. arriva Emiliano, il magistrato governatore, quello che doveva trasformare la Puglia, il sindaco governatore sceriffo e di punto in bianco taglia. Mi piacerebbe saperlo, perché è giusto razionalizzare, però bisogna anche considerare che i pazienti non sono dei numeri e oltre ad essere dei numeri, proprio in un territorio sofferente come quello tarantino, bisognava intervenire, ma potenziando il numero dei posti, non diminuendoli, ripeto, da 10 a 2. Lo ripeto, perché magari qualcuno è distratto, perché magari alle 15 sta ancora smaltendo così il pranzo e lo ripetiamo, grazie al governatore Emiliano e ai suoi collaboratori, a Gorgoni e Ruscitti, gli scienziati del piano di riordino, noi abbiamo questa mutilazione. Ed è un provvedimento, una mutilazione, che va proprio in controtendenza, che va contro, che cozza, contro il piano nazionale per il diabete, che prevede dei percorsi da attuare negli ospedali, cioè attraverso anche e soprattutto i ricoveri. Mi domando, caro Michele Emiliano, a questo punto la gente che ha questa patologia e ha bisogno di un ricovero, visto che ci sono solo due posticini due, dove devono andare a buttare il sangue, caro Michele Emiliano? Ce lo spieghi? Devono fare i viaggi della speranza, devono andare a Bari, a Lecce, a Brindisi, non sanno più dove loro devono andare, perché a Taranto, caro Emiliano, ci hai tolto tutto. Tu vieni a Taranto solo a fare la passerella per l'Ilva, perché vuoi fare lo pseudo ambientalista, perché vuoi fare la scalata nazionale al partito e a Palazzo Chigi. Poi Taranto non fai altro che mutilarla. Questa è la realtà. Io non sono di parte. Io ho detto che siamo passati dallo schifo politico, partendo da Fitto, attraverso Vendola e, caro Emiliano, non ti offendere, ma politicamente anche tu stai facendo schifo, soprattutto in ambito sanitario. Sono senza bavaglio e non faccio sconti a nessuno. Capito, caro Michele? Tocca anche a te. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.